Lo puoi fare con Factotum, la piattaforma informatica promossa dalla città di Torino e realizzata dal CSI Piemonte. Si chiama Factotum ed è il nome della nuova piattaforma per la gestione della segnalazione di intervento degli edifici scolastici e dei lavori che ne conseguono, che è stata messa a punto dalla città metropolitana di Torino. È stata presentata oggi alle scuole durante un incontro dell'Auditorium di Corso Inghilterra, introdotto dai saluti del vice-sintaco Marco Marocco e del nuovo consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco. La città metropolitana continua a investire nell'informatizzazione dei processi del proprio ente. È un fattore strategico per la città metropolitana perché significa liberare risorse, liberare persone, alleggerendo anche l'attività non soltanto all'interno ma anche all'esterno. Quindi la comunicazione tra quello che sono i presidi, quello che sono le realtà scolastiche e il nostro ente. Prenderà il posto del sistema SIGMANET utilizzato fin dal 1999 dai dirigenti scolastici e dalle scuole superiori per segnalare i problemi di manutenzione dell'edilizia scolastica. Factotum è una piattaforma web più aggiornata e dotata di numerose applicazioni aggiuntive che consegue di rispettare il regolamento europeo sulla privacy in quanto prevede l'accesso con credenzia di speed. Accanto alle storiche funzioni di SIGMANET, come la segnalazione della necessità di intervento, la gestione delle comunicazioni con i tecnici di riferimento e l'invio dell'ordine alle ditte incaricate, il nuovo sistema, dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva, permetterà per esempio di associare ogni edificio alla planimetrie su cui individuare le zone di intervento, cosa che abbreverà ulteriormente i tempi di diagnosi e dell'intervento. Che cosa fa Factotum migliore al suo antenato, diciamo SIGMANET? Soprattutto nel fatto che ha tutta una serie di attività potenzialmente attivabili che consentono di migliorare lo scambio di informazioni tra le scuole e i tecnici della città metropolitana che gestiscono gli interventi. In particolare in questa fase viene attivato il modulo per le segnalazioni di richieste di interventi di monitorazione ordinaria che era esattamente quello che faceva il precedente applicativo che era SIGMANET ma in prospettiva verranno attivate tutta un'altra serie di attività che Factotum consente di avere soprattutto legate al caricamento di informazioni tecniche relative agli edifici scolastici. Nel corso degli anni, quindi io che sono nella scuola dal 98 fino ad oggi la comunicazione è stata fondamentale con i vari sistemi che si sono succeduti, i vari dirigenti perché chiaramente se uno non comunica, non fa capire le situazioni, le esigenze che ci sono diventa difficile poi risolvere. Devo dire che nel corso degli anni c'è stata una collaborazione puntuale per tutte le cose che è la scuola in questo caso il liceo dove io attualmente lavoro ha richiesto da parte e quindi questi interventi da parte della città ora, città metropolitana, ex provincia di Torino.